Ciao e bentornati sul nostro canale. Leggiamo il messaggio di nostra signora regina della pace a Pedro Regis. Ma prima vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdervi i prossimi video. Messaggio 5481 del 17 agosto 2023 Cari figli, sono la vostra madre addolorata e soffro per quello che viene per voi. Verrà il giorno in cui gli uomini e le donne di fede cercheranno il vero tesoro, ma il vero tesoro sarà nascosto. Quello che è falso si diffonderà in ogni luogo e molti saranno ingannati. Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della vostra fede. Rimanete saldi nel cammino che vi ho indicato e non permettete che il fango delle false dottrine vi trascini nell'abisso spirituale. Pregate. Cercate forze nell'Eucaristia per essere grandi nella fede. L'Eucaristia è il grande tesoro della Chiesa. State attenti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Grazie per averci seguito, se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a iscriverti al canale e mettere un mi piace a questo video.